AM cambia canale. La rivoluzione dello switch-off arriva anche in Sicilia e provocherà a partire dal 28 di aprile un cambio nelle numerazioni dei canali tv. Antenna del Mediterraneo si troverà sul canale 82, l'anno della vittoria ai mondiali di Spagna. Il passaggio alla nuova tv digitale riguarda tutte le reti, tanto quelle nazionali quanto quelle locali. Un vero e proprio processo di cambiamento-miglioramento che giungerà a termine entro il prossimo anno con l'adozione di uno standard di ultima generazione per le trasmissioni sul digitale terrestre. Alcune regioni hanno già vissuto, non senza criticità, questa piccola rivoluzione. Ciò che è importante ricordare è che è necessario risintonizzare il televisore per continuare a vedere i propri canali preferiti. Mentre i più moderni effettueranno l'aggiornamento in automatico a tv spenta, altri dispositivi necessiteranno che sia effettuato manualmente. Ad ogni modo non si tratta di un procedimento complicato, basterà selezionare dal menu della propria tv alla voce impostazioni la sintonizzazione automatica. La rivoluzione dello switch-off partirà oggi dal messinese, da Patti fino a Taormina e interesserà poi dal 29 aprile la Sicilia orientale, con Catania, Ragusa, Siracusa e parte dei comuni delle province. Dal 2 maggio sarà la volta di Agrigento, Caltanissetta e dei restanti comuni del Catanese e del Ragusano. Il giorno dopo si aggiungeranno anche Enna, Caltanissetta e parte dei comuni delle province di Palermo, Catania e Agrigento. Dal 4 a 6 maggio si proseguirà con Palermo, Agrigento e Trapani, mentre il 6 e il 9 maggio con il messinese, nell'area compresa tra Capodorlando e Tusa e le Isole Olie. Ultimo giorno il 10 maggio, con Pantelleria, Lampedusa, Linosa ed Ustica. Da oggi in poi dunque AM si troverà sul canale 82, il canale dei campioni.